Si intitola Eccessi d'amore ed è la mostra d'arte in programma il 5 e il 6 settembre al Prelato Basso di Fano, un evento quello organizzato dalla Galleria Superdote che ha l'intento di ricordare Raffaello Sanzio a 500 anni dalla sua morte. Parte centrale di questi due giorni è la mostra degli artisti fanesi Paolo Tarciso Generali, Natale Patrizzi detto Agra, Doro Catalani e Pierluigi Piccinetti che con le loro ultime opere vogliono omaggiare il divin pittore urbinato. Si tratta di una mostra d'arte di quattro artisti, tre viventi, uno famoso in tutta Fano il generale Paolo Tarciso. È nato perché un amico mi ha detto guarda ci sono dei quadri di generali che qualcuno ancora non ha visto, quest'anno è 500 anni della morte di Raffaello, i pittori fanesi qualcosa devono pur fare per festeggiarlo. A me è venuto in mente il prelato perché ci ho passato l'adolescenza quando ero giovane seminarista e sono un cardinale mancato. Quindi mi sembrava il luogo ideale. L'ho visto, l'ho ritrovato molto ben restaurato, c'è una cooperativa che si chiama Generazione che lo sta gestendo e sarà una bellissima serata sia il sabato sia la domenica pomeriggio. Poi una bella esclusiva del sabato sera, sempre sabato 5 alle 21.30, ci sarà una performance di Filippo Sorcinelli con Giovanna Donini che presenteranno una nuova fragranza, un nuovo profumo. Quindi arte a tutto tondo, bellezza a tutto tondo. Il programma completo dell'evento è possibile consultarlo sul nostro sito occhioallanotizia.it. Nel ricco calendario, ospiti a sorpresa e tante iniziative come presentazioni di libri, performance musicali, racconti e aneddoti. Per partecipare all'evento di ingresso libro è obbligatoria sia la mascherina che la prenotazione al numero 338 30 51 082.